due, uno, live. Ciao a tutti, bentornati su Trapple for Dummies, la cerca del trattufo per novellini Michela Pei, la diretta è iniziata sì, proprio ora, oggi è alle ventuno, solitamente invece lunedì è alle venti, venti e trenta. Allora, siamo già tanti in chat, c'è Marco, c'è Marco, Alberto, Egidio, Andrea, Tonio, Lorenzo, Antonio, Marco, Roberto e Ilenia, Michela, Giuseppe, ciao ciao a tutti e come ogni mercoledì alle ventuno siamo qua con il dottor Dario Capogrosso dell' allevamento Cacao Meravigliao di Lagotti, bentornato Dario. Ciao a tutti, ciao Davide. Ciao, ciao, ciao. Allora, prima di partire come sempre ringrazio tutti i Patreon. Ah, vi avviso anche che stasera c'avevo il computer che aveva fatto qualche bizza, quindi spero adesso avrei dovuto, credo aver sistemato tutti i problemi, ma nel caso in cui io sparisca per qualche ragione Dario continuerà a portare avanti la serata fino al mio ritorno perché dovrò riavviare. comunque vi ho avvisato. Allora volevo ringraziare i Patreon e vi ricordo anche che qua sotto la chat c'è un simbolino con un dollarino, se cliccate sopra potrete fare delle donazioni al canale per partecipare un po' attivamente alla vita di Traffo for Dummies che come dico sempre open non è free, ovvero il fatto che i contenuti siano liberi non significa che siano che siano gratuiti ma ci sono delle spese da sostenere per continuare a mantenere questi contenuti liberi allora partecipate il più possibile cliccando su quel bottoncetto lì o entrando sulla piattaforma Patreon di cui poi vi lascerò il il link. Allora oggi parleremo di un argomento gettonatissimo ovvero di cosa fare quando arriva un cucciolo o addirittura come prepararsi anche all'arrivo di un cucciolo e tutte le cose che dobbiamo ottenere sott'occhio e le buone pratiche che dobbiamo che dobbiamo sviluppare. Dario tu di cuccioli ne fai ne fai partire tanti fai felici molte singole molte famiglie e quindi quali sono i preziosi consigli che dai nel momento in cui avvii un cucciolo a nuova vita? No niente da l'altro qua siamo su Trafford for Dummies per cui voglio dire eh non dobbiamo fare tanti sofisti io oggi in qualche maniera cerco di essere molto concreto su quello che c'è eh veramente da fare poi nel senso non voglio smontare teorie eh sulla sull'ideale eh accoglienza al cucciolo molto umanizzate molto spesso ma eh semplicemente penso che ci siano delle formalità tra virgolette eh nella reazione e che è fondamentale sono fondamentali da in qualche maniera da affrontare mi hai sentito ancora perché nel frattempo mi chiamavano. Ormai ho imparato che quando va via l'audio abbiamo perso qualche parola ma il senso si è capito. No no perché con ci siamo visti con Davide poche ore fa e io davo appuntamenti con la lei chiamarmi dopo le otto e ti ricordi che abbiamo la diretta? Infatti mi chiedeva se avessi ottemperata le chiamate probabilmente non l'ho ottemperata tutte. Comunque e per cui insomma è importante questo ma rimaniamo un po' eh con i piedi per terra no? Nel senso che ci sono tanti sofismi che si possono affrontare o meglio alle persone piace affrontare eh la nuova relazione che si che sarà da restaurare con il nuovo cucciolo in maniera particolare un po' la preparazione. Dario. Eh dimmi. Ti interrompo solo un attimo perché ci ha scritto Chiara Marchionne che dice che ci deve per forza aggiornare e dice sul discorso Papa Mix dall'ultima vostra diretta ho smesso di mischiare la scatoletta alle crocchette e ora ho vinto io finalmente niente più mix. Penso che intenda che il cane ha iniziato a mangiare le crocchette senza mischiare gli illumini insieme. Siamo siamo con te. Siamo con te. No è quello che dicevo no? Molto spesso eh cerchiamo di immaginare una situazione eh come dire non ci lanciamo oppure ci facciamo intenerire troppo e sbagliamo perché i nostri cagnolini sono più furbi di noi molto spesso quindi in qualche maniera bisogna prendere una linea eh significativamente dura ehm con noi stessi non col cane assolutamente quindi dobbiamo essere coerenti sempre cercare di essere coerenti cercando di fare il bene del del cucciolo. Quindi allora sicuramente appunto eh pensiamo all'argomento giusto questo è un argomento diciamo chi eh fondamentale no? Eh e possiamo iniziare col dire che ehm di sicuro eh bisognerebbe un po' capire come arriva il cucciolo a che età arriva il cucciolo ehm da chi arriva il cucciolo che trattamenti ha fatto il cucciolo insomma ci sono un po' di preamboli però noi dire che andiamo subito al punto ehm ci focalizziamo su quello che veramente bisogna fare a casa è importante fare appena il cane arriva e poi magari a ritroso andiamo su quelli che sono i punti salienti che un buon acquirente o un buon adottante dovrebbe sapere prima di acquisire il cucciolo per cui parliamo punto uno trasporto ne abbiamo già parlato quindi eh il cane tendenzialmente il cucciolo se piccolo è vero che va tenuto andrebbe tenuto in pratica in in una posizione per non in macchina per non dare problemi al guidatore quindi se il guidatore si fa accompagnare da da sua compagna insomma da chi per lei che se il cane sta vicino per acquisire subito confidenza con il proprietario e cosa buona giusta si arriva a casa eh io consiglio molto spesso di non fare quello che le norma chiunque proverebbe a fare che quindi in buona sostanza eliminare ogni freno in obitore del cucciolo eh consegnandoli le chiavi di casa in maniera ovviamente eh figurata e eh dargli subito da mangiare e da bere da bere ci può ovviamente stare io molto spesso proprio perché i cani quando cambiano ambiente eh hanno come dire lo stress che modifica in maniera sostanziale anche quello che è eh la propria eh il proprio come dire ambiente eh gastrico eh tendo sempre a dire di non far mangiare cuccioli perché eh lo stress aumenta quella che è la motilità intestinale e quindi tendenzialmente il cucciolo la prima cosa che farà è fare le prime scariche di eh cacca molle non di aria ma cacca molle che crea subito allarmismo e preoccupazione quindi dire che sicuramente una delle prime cose da fare quando si porta il cane a casa è sì lasciarlo libero in uno spazio delimitato senza facendo attenzione il cane non possa scappare magari per la paura dell'ambiente nuovo in cui si trova e non farlo mangiare non farlo mangiare per almeno eh per almeno ventiquattro ore ma anche mi spingerei anche di più quindi per un giorno e mezzo questo ripeto perché in cani si deve adattare e perché praticamente eh la nuova alimentazione in un posto nuovo in un cuccio piccolo probabilmente causerebbe problemi e infiammazione a livello intestinale anche senza presenza di parassiti intestinali che a volte potrebbero tranquillamente stare quindi questo è il primo punto che ne pensi Davide? Allora su questo eh io una cosa che che consiglio ma anche un po' per esperienza personale perché oltre al fatto delle delle condizioni ambientali c'è anche la questione del proprio del cambio cibo io ho visto che i cuccioli sono molto sensibili addirittura anche quando rimangono nello stesso ambiente e gli si cambia semplicemente la marca di crocchette possano avere dei dei problemi appunto come li chiami tu di cacamolle ci si concentra troppo sulla marca di crocchette nel senso eh i clinici quindi veterinari fondamentalmente parlano soltanto di crocchette di monoproteco di ehm di marche in realtà eh se in qualche maniera si capisce il motivo per cui alla base il cucciolo non defega in maniera ottimale e semplicemente ci si capisce per tutto il resto no? Quando il cane eh ingerisce alimento l'alimento ha un bypass intestinale di un certo tipo viene digerito e all'interno del testino oltre che all'assorbimento di nutrienti c'è anche una disidratazione di quello che si è ingerito. Se la modalità intestinale quindi la peristalsi è troppo rapida praticamente le feci verranno espulse non completamente come dire deidratate e per cui tendenzialmente può esserci comunque infiammazione dell'ultimo tratto del colon e eh fondamentalmente feci molli e non soglie e questo va a preoccupare anche senza presenza di parassili. E quello che ti stavo chiedendo prima appunto su questo che è proprio su questi cambiamenti eh tu consigli comunque di fare un passaggio graduale alla nuova alimentazione magari portandosi delle crocchine del di chiti c'è del cane iniziandole a mischiare a quelle nove per può essere una cosa sensata o e cosa se ci parliamo sei alla quarantesima diretta sei benissimo che se parli mentre sto parlando io non ti si sente se nell'acquario quindi dobbiamo aspettarci sono offeso no è più che altro per loro che era un paio di volte che è vero no quindi dicevo eh è cosa buona e giusta Davide assolutamente cosa buona e giusta però molto spesso non è non è la soluzione quindi io veramente consiglio un giorno di digiuno anche quando bisogna fare lo switch da un'alimentazione all'altra bloccare il cane per un po' non farlo mangiare un giorno non succede assolutamente niente ma anzi si aiuta il cane ad non non ampliare eventuali processi infiammatori a livello gastrointestinale e poi reinserire adottamente il nuovo cibo per dar tempo al cane e alla flora intestinale presente nell'intestino di diventare attiva sia a livello enzimale eh enzimatico sia a livello ovviamente di digestione quindi di velocità di transito intestinale quindi l'alimentazione è decisamente fondamentale come prima cosa ovviamente farlo bere acqua sempre a disposizione e eh trovargli un angolo all'interno della casa in cui il cane dovrebbe essere in qualche maniera ehm uno spazio delimitato perché dico questo? Perché è molto più facile concedere al cane delle libertà e degli spazi un po' alla volta perché altrimenti se noi concediamo tutta la casa subito e il cane che inizialmente cuccio sembra un po' intimidito cerca di prendere i primi passi nel nuovo ambiente a quel punto è molto più difficile levare qualcosa al cane se il cane per un giorno due giorni ha avuto la possibilità di entrare dentro casa uscire dentro casa andare in sala al primo piano cioè in camera al primo piano in bagno in cucina saltare sul tavolo poi a quel punto quando il cane ha fatto è difficile levargli questa possibilità e il cane poi continuerà a squittire specialmente un lagotto per ogni cosa va a succedere è veramente dura resistere allo squittire del lagotto eh c'è per giù quello di un topolino veramente a tre mesi sono delle delle palle rotolanti insopportabili uno un po' meno insomma il lagotto a tre mesi veramente eh insomma è a questa vocina eh squillante veramente fastidiosa poi fortunatamente diventano baritoni e quindi migliorano comunque quindi dargli poco spazio l'ideale ancora sarebbe appunto procurarsi un recinto dove appunto chiudere il cane in un angolo della casa eh per un po' quindi eh sempre dare lo spazio un po' alla volta dargli la possibilità di avere un trasportino la sua giustizia e in cui chiuderlo all'evenienza e questa cosa di chiuderlo non deve spaventare perché diciamo che la salvezza eh per le nostre vite per chi di noi ha delle cose in casa abbiamo qualche problema di audio Dario mi sa me l'ho confermata anche in chat che sta andando un po' a scatti o sono io che non lo sento ora si scatta un po' eh sì abbiamo un attimo un ah ok sì infatti ci hanno confermato il problema di di audio è successo qualcosa vuoi provare a uscire e rientrare intanto io guardo un po' la chat come va Dario? Sì sì faccio ok allora guardo un pochino di domande che sono arrivate così nell'inizio a ricordare e poi ne parliamo anche con con Dario Massimo Lizio posso chiedere un'informazione? Te ho risposto in chat c'è qui la chat qua di fianco è messa apposta per comunicare con voi quindi Massimo ma anche se c'è qualcuno che è la prima volta che è qua con noi anzi segnalatemelo se è la prima volta che siete qua con noi facendo un hashtag prima volta nei commenti così almeno ci salutiamo e ci e ci conosciamo meglio ci facciamo le giuste presentazioni ilenia pana il mio lagotto arriverà tra qualche mese io a casa un pastore recuperato dal canile un pastioso e vecchietto cosa mi consigliate come approccia di benvenuto fuori in giardino o in casa? Eh eh in generale potrebbe essere bene farli conoscere prima in un posto neutro ovvero non portargli poi dipende dal cane però se questo è un po' così magari farli prima conoscere in un posto neutro può può aiutare poi di fondo secondo me deve essere un po' anche il è il capogobranco o del mano che va un po' a determinare le relazioni tra i cani quindi dovrei essere anche tu che intervieni intanto vedo che Dario è tornato che intervieni per far andare tutto bene però poi ne parliamo ne parliamo la la riporto anche a lui questa domanda perché proprio sul benvenuto del del cucciolo vediamo non ha sentito quello che ho detto io vediamo se abbiamo una visione simile allora Dario ti faccio domanda alla cieca il mio lagotto arriverà tra qualche mese un cucciolo credo io a casa un pastore recuperato da un canile un postioso e vecchietto cosa mi consigliate come approccio di benvenuto fuori in giardino o in casa dice tutto niente il cane vive in casa il cane è un maschio una femmina l'altro cane il cucciolo sarà un maschio una femmina cambia tanto e cambia molto io ho consigliato senza saperne leggere né scrivere un incontro in posto neutro è quello che si consiglia sempre però non è detto nel senso che non è detto che sia necessario in quel senso di dove sia la cosa giusta nel senso che se un cucciolo il cane è abituato a tre cani si prende il cane si mette in casa e basta il cane è accettato quindi dipende dipende da tante situazioni quindi in quel senso dico dipende nel senso il posto neutro è niente nel senso pensa di venire a me allora tu fai conoscere due cani fuori poi entrano dentro cioè potrebbero essere saccagnati ancora di più quindi nel senso perché esci fuori rientri metti di nuovo in competizione lo spazio che prima era tuo quindi in realtà se si prende il cucciolo in braccio si mette nel posto in cui vive il cane anziano e il cane è abituato ad accettare insomma in qualche maniera lo si blocca eventuali come dire a strade negativi che lui dimostra di avere e a quel punto il gioco è fatto è molto più macchinoso fare il territorio neutro secondo me ne ho provato guarda io ti ho detto penso di aver te l'ho detto ho lavorato in canina a Milano a Lambrate per facere il volontario per un po' quindi diciamo che le situazioni di questo tipo quindi non viste tutte tante quindi non da meno allevamento ma in situazioni differenti quindi come dire il normalmente consigliato posto neutro non è la panacea di tutti i problemi va bene allora Dario puoi riprendere il discorso siamo arrivati quindi cucciolo arriva a casa stavi parlando di limitare lo spazio e si è arrivato al trasportino a occhio a non finire di nuovo nell'acquario vai allora eh trasportino molto utile molto utile perché bisogna che venga visto un po' come nella cameretta di un bambino bambino ha piacere di vivere in cameretta perché è un posto che conosce un posto che gestisce bene è un posto in cui quando viene sgridato si va in cameretta ma in realtà ci sta anche anche volentieri ecco dovete immaginare quello dovete immaginare il limitare la libertà del cane perché in ogni modo noi limitiamo la libertà del nostro cane che probabilmente alcuni nostri cani sarebbero su nel bosco a grattare grattarsi correre in seguito delle lepre per cui per cui nel senso anche il cucciolo può avere delle libertà limitate inventiamo le libertà perché altrimenti poi da adulto o cucciolone queste famose libertà verranno come dire reclamate con ancora più forza e per noi sarà veramente difficile quindi limitare gli spazi il cane resistere se il cane dovesse squittire perché noi magari l'ora prima giusto perché siamo felici è mantenuto sempre in braccio e poi quando lo lasciamo ci diciamo e come mai ora piange e la risposta è semplicemente perché il cane stava bene dove stava quindi reclama il suo posto con voi lui non sa che non può vivere con voi che non può dormire sempre con voi e se voi in qualche maniera la cercaste di far vivere voi il cane così avreste altri problemi quindi solitudine trasportino e decisamente un bel salvavita per i futuri 15 anni di vita col vostro cane sì 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 sto guardando sto guardando grazie per grazie 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 abbiamo Giuseppe Marra che ci sono il felice proprietario di un cucciolo di lagotto di 70 giorni da domenica scorsa molto bene complimenti benvenuto benvenuto nel club attualmente non abbiamo altre domande se avete delle domande da fare qui c'è la chat usatela pure da un punto di vista legale quando porto a casa un cucciolo cosa deve avere in termini di documenti se il cane di razza non è di razza ci sono cose che comunque deve avere certificato di proprietà come funzionano dal punto di vista più più tecnico allora poi vabbè non dimentichiamo che devo poi parlare della delle locande non dell'assurdo ma delle cose quindi nel senso non non dovete comprare cose inutili ecco per il cucciolo perché potrebbero addirittura essere eh fastidiose e oltre che totalmente inutili quindi parlerò anche di quello allora legalmente il cane deve essere sempre ceduto con almeno il microchip eh inoculato da un veterinario competente perché quel cane deve essere quindi l'anagrafe caninazionale eh da questo obbligo poi ovviamente quando viene ceduto il cucciolo oltre a un'età minima di 60 giorni a termini di legge perché comunque garantito deve essere garantita come dire la crescita corretta del cucciolo e quindi la permanenza col suo nucleo familiare minimo per 60 giorni io come sai due cani minimo due mesi e mezzo o tre mesi eh però questa è una mia ovviamente scelta e non è un obbligo di legge e dovrebbe avere almeno le prime due vaccinazioni seguite da un veterinario per il core ehm per i core vaccini in buona sostanza specialmente per la palovirosi che è la malattia e la patologia più pericolosa e rischiosa per un cucciolo eh l'allevatore il privato comunque dovrebbe in qualche maniera mh darvi un po' di consigli appunto ehm anche sulla profilassi vermifuga fatta dal cucciolo e su di quali parassiti con quali parassiti questo cuccio potrebbe essere stato a contatto e magari darvi delle indicazioni per superare l'eventuale problema. Quello che faccio io personalmente ad esempio è di consegnare ai cuccioli che hanno fatto ovviamente tutti i loro trattamenti vermifugi per i periodi di permanenza in allevamento con quattro barra cinque vaccinazioni in modo che non c'è mai nessun rischio anche a tre mesi se cane dovesse andare fuori direttamente nei prati nei parchi a contatto con altri cani può farlo perché dovrebbe essere abbastanza blindato da un punto di vista immunitario e poi altra cosa che faccio sapendo che comunque in allevamento c'è comunque la presenza di ehm parassiti ad esempio fragellati tipo giardia io pur trattandoli a casa do un trattamento al futuro proprietario dicendo che il cane è stato già trattato ma per sicurezza per avere la certezza che tu non avrai problemi in qualche maniera fai questo trattamento per i prossimi dieci giorni per avere ovviamente la sicurezza che il cane in nei giorni successivi possa avere un adattamento ideale alla nuova alla nuova sistemazione alla nuova proprietà senza portarsi dietro come dire oltre al eh beneficio di un sistema immunitario competente anche il fardello di eventuali larve di parassiti che potrebbe naturalmente aver preso un allevamento perché i cani vivono anche fuori scorazzano quindi fanno una vita come diciamo sempre da cani in nell'accezione positiva del termine quindi bisogna fare attenzione a quello bisogna fare attenzione ai documenti e una prima visita dal veterinario non è sconsigliata nel senso se si ha qualche dubbio se magari il cane si prende da un privato come quando si acquistano macchina si va dal meccanico fiducia e diciamo che il veterinario può essere un aiuto in quel senso per dare indicazione sullo stato di salute del cucciolo qualora l'allevatore come ad esempio il mio caso non dà anche la certificazione di sana e robusta costituzione certificazione veterinaria di buona salute del cane timbrato dal suo veterinario ovviamente però io posso determinare le garanzie in quanto allevatore professionale in privato non le può dare quindi in qualche maniera chi acquista può tutelarsi in in differente maniere allora Dario altre domande un po' a questa Andrea Pessina abbiamo già risposto c'è ragazzi una domanda quanto dovrebbe essere grosso il recinto in casa 2 metri quadri ok ciao da tre mesi una femmina aspettate che stanno arrivando le domande mi è sceso la chat intanto che leggiamo da tre mesi una femmina braccolagotto di sei anni quindi da tre mesi una femmina braccolagotto di sei che era a sei anni sto pensando di prendere un secondo cane così da farle compagnia nel box che cane consigliereste per compatibilità razza e sesso quindi una femmina adulta di braccolagotto cosa consiglieresti di affiancarvi qualunque cane cioè nel senso probabilmente un maschio c'è di bene anche dal suo carattere perché non è detto intanto che lei abbia piacere a condividere il suo spazio con un altro cane bisogna sempre vedere se questa condivisione può giovarle normalmente sì o meno comunque le consiglierei un can di almeno sei mesi in maniera da non dover avere il problema del cucciolo rompipalle per la canna già di sei anni matura un cucciolo di sei mesi in cui possa iniziare una relazione comunque un maschio razza può andare se gli va bene un ragotto ma anche un cane più grande cioè sempre se deve essere da stufo anche un bracco stesso e sono cani fantastici quindi qua siamo un passo prima dell'arrivo del cucciolo che martina facchetti dice come capire se il lagotto è la razza adatta al proprio carattere stile di vita tipologia di casa a chi si è adatta bene il lagotto eh non lo so si è adatta un po' a tutti poi mi piacerebbe andare a trovare martina si chiama quindi fa il capire suo stile di vita insomma e dipende dal suo stile di vita non so che stile di vita abbia però ecco il lagotto il lagotto si è adatta bene un po' a tutti è un cane eh polivalente eh quindi versatile si adatta agli sportivi ai ai poltronieri e diciamo molto camaleontico nella sua eh espressione di quotidianità il lagotto quindi eh di sicuro è difficile trovare un giovane lagotto con poca voglia di giocare e interfacciarsi con noi ecco quello è difficile quindi eh il cane pachiderma è probabilmente più un bastino guarigliano non proprio lagotto e dipende dipende appunto da da quel da quello che si aspetta dalla nostra amica da parte del lagotto non nel contrario ecco qua però Davide ricordo che tu avevi paura gestire un cane ora ne gestisci cinque sei in tranquillità che senso uno eh no no un cane vabbè ok avrei anche zedda una lagotta insieme a me eri anche tu mi facevi le domande su sulla difficoltà o meno di gestire un lagotto in casa fuori casa ricordo qualche domanda ah si per io avevo il vecchietto ma no non per zedda per il perché il vecchio il vecchio brontolone era quella la preoccupazione però ora hai cinque oggi hai cinque lagotti a casa che insomma sì tra l'altro molto utile questa diretta perché proprio oggi ho accolto in colonia due nuovi due nuovi cacaini meravigliai le più scatenate del gruppo le ho scelte sai che a me piacciono piacciono matti loro stesse stanno già roto e ando sul loro stesse adesso sono c'è tutta la banda della gotti che sta facendo una riunione dopo li vado a trovare allora l'allevatore che garanzie deve dare sullo stato di salute del cucciolo se si scopre che il cucciolo ha patologie l'allevatore ne risponde sì 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 l'allevatore dovrebbe sempre rispondere almeno parzialmente rispetto a questo per quanto mi riguarda io faccio un contratto di vendita in cui garantisco i cani per una serie di patologie però esistono in alcune province quelli che si chiamano usi e costumi di una detta provincia che si trovano depositate in camera di commercio quindi in buona sostanza se voi andate in camera di commercio e cercate gli usi della vostra provincia o delle province alla quale appartiene l'allevatore ci sono come dire nelle specie di contratti vincolanti tra virgolette altrimenti vale anche un contratto verbale però diciamo che l'allevatore serio dovrebbe rispondere nelle patologie del cucciolo ci sono dei tempi poi come dire persone poco serie ce ne sono tante quindi purtroppo la legge non tutela l'acquirente in maniera totale la tutela soltanto quando poi si ha a che fare con professionisti ma giustamente direi io perché il privato è un visto e piaciuto molto spesso quindi ti può andar bene e ti può andar male quindi però però sì c'è nel senso diciamo che purtroppo deve essere acquirente ad avere una informazione preventiva sul cane che va acquistare perché diciamo che se ne sentono in giro di ogni ecco ok è di una truffa dalle d'acquirente sono stato truffato varie volte quindi io prima che allevatore sono stato cliente lo sono ancora e sui cani ok non come i cavalli però insomma la poca chiarezza è abbastanza frequente all'ordine del giorno ecco Antonio Lancellotti ci chiede se è raccomandabile avere un'assicurazione che copra le spese veterinarie allora raccomandabile forse sì però ci sono dei vincoli nel senso l'assicurazione tutta l'assicurazione in Italia non coprono mai il cucciolo prima del compimento del sesto mese d'età e non coprono per le principali patologie degenerative che possono colpire il cane dai sei mesi ai sei anni d'età per cui in buona sostanza quello che copre l'assicurazione secondo me è il 30 per cento del rischio nel senso che i primi sei mesi quando il cane è suscettibile alle malattie virali e batteriche non puoi coprirlo quando può essere sensibile a patologie ortopediche comunque gravi fondamentalmente tutte patologie non vengono comprese all'interno l'assicurazione quindi utile sicuramente però come dire non è una coperta di non è un ancora di salvataggio totale allora quando si può mettere l'antiparassitario al cucciolo con l'are pipetto altro allora esistono io l'ho fatto quattro mesi e mezzo ho già tolto due zecche grazie allora esistono delle linee guida che non fanno i veterinari ma fanno le case farmaceutiche per cui diciamo che buona parte degli antiparassitari che sono comunque sostanze tossiche non vengono consigliate per cuccioli al di sotto dei sei mesi d'età va da sé che i cuccioli anche a quell'età sono assolutamente sensibili all'acquisire passiti sia intestinali sia passiti esterni quali pulci zecche e per cui diciamo che urge trattarli io andando oltre perché non posso ovviamente far diventare i miei cani o i miei cuccioli depositi di zecche ambulanti che succederebbe questo io li tratto anche da piccoli quindi inizio a trattarli a due mesi non ho avuto io personalmente problemi non posso permettermi di consigliarvi questa pratica ma io inizio a trattare a due mesi con prodotti spot on e anche con prodotti come dire assimilabili per via orale che sono secondo me più importanti e più significativi tonio tonio dovrò scegliere il mio logotto da una cucciolata fa venti giorni cosa mi consigliate di osservare prima di sceglierlo anche come sesso i genitori controlla un po i genitori controlla il comportamento che i genitori hanno col piccolo se tu hai la possibilità cerca di prendere il cucciolo più tardi possibile non avere fretta aspetta attendi non nella scelta ma per portarlo a casa lo so che si è sempre impazienti ma lasciarlo un dieci quindici giorni in più se l'allevatore disponibile fallo perché comunque sia hai più controllo sul cane il cane può aver tempo di sviluppare gli anticorpi post vaccinazione molto più rapidamente molto spesso infatti i cuccioli vengono vaccinati l'ambiente cambia e non vi è una reazione al vaccino quindi questo anche molto importante controlla magari il libretto sanitario dei genitori se chi ha i genitori ti permette di fare questo controlla il loro comportamento all'interno della cucciolata la scelta di un cane d'artufo è comunque abbastanza complessa ed ha in qualche maniera dell'input che tu devi cercare però di sicuro cerca di non prendere il cane più pauroso cerca di non prendere il cane che ti il primo cane risalta addosso perché comunque un cane si socievole però fondamentalmente può essere fin troppo socievole quindi può andare poi per frischi e frasche e l'abbandonarti sul più bello non scegliere il cane più piccolo il cane che ti fa pena ti fa pena cerca di controllare gli occhi che non abbiano scoli che siano belli c'è l'occhio un po' lo specchio dell'anima anche nei cani quindi l'occhio ti parla avere un cane con dei belli occhi vispi e come dire delle belle corne lucide è sicuramente un buon un buon biglietto da visita controlla le orecchie alza il padiglione auricolare controlla che siano pulite che abbiano fatto una buona tolettatura così in qualche maniera ti dà anche un'indicazione sulla cura dei cuccioli da parte del proprietario controlla il pelo che sia setoso lucido e non spento e anche quello è sicuramente un buon indicatore sulla presenza o meno di parassiti intestinali che in qualche maniera direttamente al pelo si può notare la presenza porta a bocca se sente un odore acetato di acetone vuol dire che esistono l'intestino del cucciolo di oggetto dei parassiti specialmente a scalidi danno questa sensazione di acetone all'alito in pratica e niente questi sono i parametri ci sono tantissimi altri però penso che già un'indicazione di salute questi parametri te la diano vedi come mangiano se puoi chiedere al proprietario appunto di osservare una poppata vedi in pratica il cane più forte il cane più vorace vedi sulla pappa quindi se devi scegliere un cane dal tuffo il cane vorace diciamo che va abbastanza bene quindi controlla questi piccoli parti volare allora c'era radu ciao radu intanto che ci fa due domande una se quando parli di quattro cinque vaccinazioni parli anche della lesmaniosi e poi ci dice ma gli allevatori seri rilasciano anche fattura o scontrino se fai una vendita io faccio la cane va via ma via con fattura anche perché i cani noi abbiamo l'obbligo tutti avrebbero l'obbligo il microchip eludere ovviamente molte persone cercano di eludere non microchipando i cani ma le asle hanno ovviamente gli archivi quindi ogni cane che viene ceduto è ovviamente una gestione se si è allevatori professionali tu devi fondamentalmente rilasciare cioè dimostrare che la gestione sarà seguita poi di una fattura e quindi sì assolutamente allevatore all'obbligo di fatturare poi ci sono gli allevatori amatoriali che in qualche maniera hanno dei regimi un po' particolari quindi c'è il forfettario possono lasciarle ricevuta e non fattura però qui entriamo diciamo in un in un terreno molto 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 difficile affrontare perché poi allevatore amatoriale vuole dire di tutto e niente insomma quindi poi affrontaremo anche questa grande piaga degli allevamenti amatoriali non amatoriali perché ovviamente gli allevamenti amatoriali hanno la mia grandissima stima e sono probabilmente coloro che in qualche maniera riempiono e e danno serietà al sistema al sistema Italia non sono la maggior parte degli allevamenti in Italia quindi la cinofilia esiste grazie all'allevamento amatoriale però ci sono tanti furbetti che non sono amatoriali non requisiti per essere amatoriali sarebbero allevamenti professionali a tutto tondo perché da anni hanno fanno fanno cucciolate quindi portano avanti questa professione ma semplicemente non vogliono pagare tasse e quindi sono sul mercato in maniera del tutto illegale formalmente quindi questa è una brutta piaga un po' per tutti perché poi diciamo che c'è della concorrenza sleale che causa poi dei comportamenti scorretti prodotto molto spesso non all'altezza e mette le persone serie in cattiva luce l'altra domanda che faceva era se quando parlavi di 4-5 vaccinazioni parli anche di lesmaniosi no allora io parlo di tre vaccinazioni per la parvovirosi quindi monovalenti per rinforzare il cucio per quanto riguarda appunto la malattia mortale per l'eccellenza in una specie canina e poi le due altre vaccinazioni coro che sono fondamentalmente quelle in cui vi è il cimurro la parinfluenza canina e appunto di nuovo la parvovirosi insomma queste patologie più comuni per quanto riguarda lesmaniosi la lesmaniosi esiste questo nuovo vaccino che comunque dà una protezione comunque quindi parliamo di un quale la casa dice un 45 per cento quindi no non parlo di vaccinazione alla lesmaniosi ma parlo di vaccinazioni che si chiamano core quelle più importanti allora intanto anche se mi ha appena mandato anche un messaggio su messenger dicendomi di non disturbarvi a ringraziare quando fa una donazione ringrazio stefano fanteria per per aver fatto la donazione e ti ringrazio anche per il messaggio che mi ha mandato che è che è molto bello però comunque ti ringrazio ringrazio anche giuseppe marra per per la sua donazione hanno fatto quella cosina che dicevo prima hanno cliccato sul dollarino sul disegnino del dollarino sotto la chat questi contributi vi ricordo che sono molto importanti per per la vita del canale aiutano a a procedere con questo progetto quindi comunque vi vi ringrazio a nome di trappol for dummies ma a nome anche di tutte le persone che fruiscono settimanalmente dei contenuti di trappol for dummies e che non c'è niente di male qualcuno anche non può contribuire qualcuno lo farà in futuro comunque un grazie da tutti i trappol for dummies per chi aiuta a sostenere il il canale allora a proposito di questo già come vi dicevo all'inizio faccio abbiamo superato la metà della diletta quindi vi lascio il link di patrion la piattaforma per sostenere creators e ricevere delle ricompense in cambio come consulenze tartuffe di addestramento altre cose e vi ricordo anche che avete la possibilità già durante la diretta ovviamente se i contenuti vi piacciono già di lasciare un like questo aiuta l'algoritmo di youtube a far circolare di più questi 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 video ovviamente se vi piace se non vi piace potete anche cliccare il pollicione in giù e se non l'avete ancora fatto e volete restare aggiornati sulle prossime dirette di trappol for dummies potete anche iscrivervi al canale è semplice cliccate lì e riceverete poi le le notifiche intanto ringrazio anche ilenia grazie mille andiamo avanti un po' con le domande dario volevi parlare dei giochini inutili poi giochini inutili giochini inutili sì è un argomento che volevi eh sì sì perché mi pesa perché molto spesso guarda sai poi è un un argomento appunto prende piacciono cioè nel senso non voglio parlare anzi parliamo male è pieno di queste nuove catene diciamo pro pets quindi per i nostri animali in cui ci sono sicuramente eh tantissime cose molto utili ma purtroppo è un po' eh come dire eh è il mappamondo e il supermercato è inutile no? In cui incontriamo giochini in plastica, galline in plastica, ossi in plastica, eh guinzaglietti che durano un giorno oppure mega grossi oppure tazzine, vestitini, ecco tutte robe che al cane fondamentalmente non interessano, non interessano eh aiutano un vanità dei nuovi acquirenti, mi capita di andare in case eh che dovrebbero accogliere questo nuovo cuccio in cui c'è di tutto veramente tipo dieci coperte eh dieci misure di coppette probabilmente perché non costano tantissimo però in realtà non ne sono nemmeno sicuro eh bianca, rosa, gialla, verde per l'acqua, per la nutella, per la camomilla ehm gabbia bianca, gialla, fiocchetto eh finta gallina, ecco robe veramente inutili. Al cane fondamentalmente serve un un bel angolino riparato e morbido su cui ehm stare bello tranquillo eh magari eh un attimino rialzato quindi lontano dalla porta per non prendere spifferi eh un recinto eh un bel collarino da cucciolo deve essere collarino più o meno da gatto ecco quindi non prende normalmente sbagliano tutti quindi non prendere pettolina ma prendere un collare da gatto magari anche quello campanellino e abbiamo il campanellino e abbiamo un bel collarino di misura da ragotto per tre mesi. È un guinzalietto semplicissimo, leggerissimo, leggerissimo. Ecco quello che serve a cane è quello. Quindi acqua a disposizione, una bella ciotola grande eh ben lavabile di alluminio ecco quello è un'ottima cosa quindi ehm diciamo che eh servono cose molto spicce, molto spicce. Poi fondamentalmente fondamentalmente il giochino sia rosa, viola probabilmente non 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 si è ancora d'accordo sulla percezione cromatica da parte del cane no? Tutti i pezzi è proprietario, tutti i pezzi è proprietario che ci stanno però molto spesso io vedo situazioni in cui se io dovessi fare una stima ci sono duecentocinquanta euro di accessori inutili che poi sono buttati ok uno butta i soldi un po' come vuole però boh è è è un peccato ecco quindi i supermercati l'inutile probabilmente dovrebbero essere visitati con un ehm come dire con uno spirito da non acquirente ecco magari col diavoletto che dice non comprare non comprare non comprare poi c'è l'angio letto che dice compra compra ma insomma secondo me nemmeno una bella inforcata da parte del diavoletto cattivo ci sta tutta quindi scusa questa digressione ma insomma è quello ma invece a parte vabbè tutte queste cose che dicevi su cui sono d'accordo con te invece eh per perché comunque il cucciolo anche per fastidi che ha a tende a masticare quindi invece comunque avere un tipo un con sì 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 un osso di bufalo quindi comunque anche poi i cani come ti dico da me mangiano anche le ossa però anche un osso di bufalo è eh va bene va bene quindi aiuta la masticazione e i cani però boh passeggiate portatelo in giro insomma o altrimenti non deve fare per forza qualcosa è come i bambini che vengono portati a piano eh danza calcio cavallo eh cinque volte a settimana non è che i cani debbano fare per forza cioè non è che i bambini o i cani debbano per forza occupare il proprio tempo possono anche stare soli e imparare a stare soli a pensare a valutare a crescere anche ozziando l'ozio esiste anche per i cani il cane tranquillo il cane che ozza è che praticamente quando abbiamo bisogno della sua come dire presenza o ludica o eh laboriosa il cane è pronto perché ha riposato perché sta sale a solo non è iperestressato e non deve per forza far qualcosa che si annoia il cane si deve annoiare si può tranquillamente annoiare non sono contro la noia nel cane anzi infatti c'è Massimo Pellegrini a riguardo che ci chiede intanto ringrazio anche Andrea Pessina Rado Nacescu Marco a Roma grazie mille per le donazioni allora Massimiliano Pellegrini dice proprio anche in relazione alla noia prendendo un cucciolo quanto tempo passa per abituarlo a stare da solo per alcune ore circa sei sette causa lavoro il tutto per non farlo stessare troppo e se il tutto è fattibile allora è tutto assolutamente fattibile però anche qua cambiamo il paradigma cioè allora il cane da appena da appena arriva cioè quando arriva da voi non è cioè se allora il cane è stressato quando è abituato a fare delle cose e poi noi fondamentalmente gli impediamo di fare quelle cose ma se il cane sin dall'inizio sa che determinate cose non le può fare che quindi deve vivere da solo sei sette ore non ci sono problemi nel senso cane arriva da voi voi iniziate a lasciarlo da subito solo sei ore e il cane per il cane diventa una routine cioè proprio è normalissimo e poi voi state insieme al cane quelle ore in cui ci state e il cane da subito sa che poter stare sei sette ore da solo cioè invece normalmente si tende a pensare hanno il cane chissà perché sicuramente era stato tutto il tempo tutte le 24 ore della giornata con qualcuno a fare qualcosa ora iniziamo a lasciare da solo un po' alla volta è una fatica sprecata in uno stress sprecato per il cane quando prendete il nuovo cane insegnatele a stare da solo sei sette ore nel trasportino magari un po meno ecco diciamo che secondo me 4 5 ore dovrebbe essere inizio per avere un' indipendenza per la pipì e la cacca e il cane impara a non farla nel trasportino lo dirà da fuori e il cane va tranquillo quindi non l'avete privato di nulla il cane ha cambiato quando il cane cambia ambiente tendenzialmente è una specie di reset quindi tutto quello che c'era prima si elimina perché poi siete nuovi proprietari nuovi ambienti nuovo posto e il cane si adatta senza stress o meglio con uno stress limitato Luca Micorucci ci chiede mettere un canovaccio con l'odore della madre può aiutare il cucciolo a rimanere più calmo nel box? Allora esistono anche delle come dire dei simulatori ormonali di ossidicina materna che dovrebbero in qualche maniera aiutare il cane a sentirsi più tranquillo che simulano determinati odori materni. Alcuni clienti lo adottano dicono che è fantastico ma in realtà mi dicono i cuccioli sono fantastici anche quando li porto in casa e dove nessuno utilizza questi prodotti o lo straccetto. Allora ammettiamolo così quando i clienti me lo chiedono io non dico mai no ovviamente cioè anche là è sbagliato snobbare determinate credenze se ci si tiene tanto lo si fa no? Cioè nel senso non non ci perdo niente dico se il cane se il cliente è contento lo sarà anche il cane. Io però non penso che sia necessario ecco. Anche perché mi dicevi che è vero che il cucciolo lo dai a due mesi e mezzo tre però delle volte per il benessere della madre la madre viene tolta addirittura prima dalla cucciolata per non essere distrutta. ma no ma non la distruggono praticamente poi diventa pericolosa perché la mamma quando insomma ha i cuccioli che continuamente la si un po' la la pungono oppure comunque la cercano sempre è sotto stress. Lei dopo un po' cioè infatti guarda proprio oggi mi ha chiamato una signora che ha avuto una cucciolata di che il pastore aveva le mani da due micani ed era preoccupatissima ma ma la mamma non è c'è sta con i cuccioli pochissimo quando loro piangono e non va. In realtà poi mi ha parlato delle ore e dei tempi la mamma ha un comportamento totalmente normale cioè nel senso abbandona i cuccioli perché è normale che sia così e noi invece immagina e loro immaginavano che dovesse sempre stare assieme a cuccioli stessa cosa in questo caso cioè la mamma non è che vive con i cuccioli sempre perennemente. A un certo punto però per strategia riproduttiva lei di questi cuccioli non ne vuole più sapere niente. Sono i cuccioli che magari la cercano ma lei non no. Ecco e quindi e quindi dare odore si può aiutare. No in realtà guarda la realtà di fatti è che io non ho mai visto grandi vantaggi. Ne ho visti eh perché poi ovviamente sono molto cioè mia moglie molto carina appunto prende lo stracetto lo mette poi lo mette in una busta cioè nel senso provare a mettere i fiocchettini quando le persone ci richiedono noi cerchiamo veramente di fare attenzione però ti assicuro che non ho mai visto grandi grandi come dire cambiamenti perché poi si è andato così facilmente i lagotti onestamente che boh e non e ecco ora mi viene in mente quello che fanno e prendono lo straccio e ci giocano ma come farebbero un qualsiasi straccio? Straccio sì. Con qualsiasi cosa il lagotto si metterebbe a giocare. Però come dire no è come credere a Babbo Natale se ci si crede non fa male boh perché no? Beh io ci credo quindi chiudiamo qua l'argomento. Ah no tu crederebbe fare. Chiudiamo anche questo. Allora nel frattempo è arrivato Leonardo Bordino che salutiamo che anche lui ha ricevuto da poco non lagotti ma due pastori della sila perché ricordo appunto che Dario con il pastore ha l'allevamento cacao meravigliaio di lagotti ma c'è anche il pastore transumante dove si occupa di maremmani abruzzesi, fonnesi e pastori della sila giusto? Cani da guardiania, cani della transumanza, razzi italiani. Niente anche Leonardo sta iniziando un'avventura con due pastori della sila tra l'altro sono entrambi i calabresi sia i pastori che lui quindi si capiranno facile hanno iniziato col piede giusto. La prima tosatura e che c'era già stata un'altra domanda questa di Marco per tichea e poi dice per togliere i peli dalle orecchie ho comprato una polvere apposta ma non sono riuscito a pulire bene le pinze chirurgiche che ha Dario dove si comprano? Io partirei le pinze da prendo online esistono praticamente attrezzature per veterinari e quindi in qualche maniera online trovi delle pinze di tedianio eccellenti e sono un po' carette perché magari costano 20-30 euro ma sono veramente eccellenti perché hanno tantissimo grip quindi sono leggeri, hanno grip, sono facilmente desinfettabili e quindi non arrugginiscono e per cui ti durano veramente una vita. Il primo strumento è la mano però. Il primo strumento è la mano, sì, anche la mano ti dura una vita. A Dio piacendo. E la prima tosatura? Allora, quattro mesi. Quattro mesi ovviamente la stagionalità incide. Se in qualche maniera si è innestate primavera va bene anche a tre mesi ecco poi dipende, dipende da quello che deve fare il cane. Ci sono cani che appunto magari per motivi di salute oppure di assunzione dei nutrimenti hanno magari questa fase di transito da lattante a appunto utilizzatore crocchette un po' fiacca e quindi magari hanno un pelo fin troppo lanoso, non piacevole. Quindi in qualche maniera quei cani godono totalmente di una tosatura totale immediata e poi praticamente rifioriscono, no? Quindi mi dico, è un pelo bellissimo, quindi boh. E ti dico, vedi che ora fa freddo ancora gli ocani tosati a 0,3 mm che non paliscono, sono fuori. Quindi boh è semplicemente, come dire, non c'è un optimum, ma dobbiamo un attimino capire noi cosa è giusto, cosa è sbagliato o meno giusto. Beh sicuramente, almeno per mia esperienza, se anche il cane giovane sta tanto nel bosco o comunque state, lo portate tanto fuori, il fatto di continuare riempirsi di cose, perché il lagotto riesce a dare. E' al bacio. Dario? Vai? E' al bacio. Grazie. probabilmente gli dà molto più fastidio di tutto il resto. Allora, altre domande, stiamo arrivando verso la fine, anche questa può essere interessante, sempre sull'arrivo del cucciolo. Posso stare tranquillo a lasciare il cucciolo in giardino? Lui si diverte molto, ma ha paura che possa farsi del male nelle sue esplorazioni o mangiando qualche pianta che non dovrebbe mangiare. Fidatevi del cucciolo, direi che è molto meglio che il cane possa esplorare. Fate però attenzione che in giardino vi sia la possibilità che il cucciolo possa uscire, scappare, cadere in un pozzo, in un buco, perché si tendono, come dire, a esplorare un po' troppo i ragotti. Quindi anche se avete dei buchi piccoli, grandi quanto la testa, ho avuto un cane che si è incastrato con la testa in un buco, scavato da non so chi. Poi ovviamente l'abbiamo liberato, però ecco, sono sono dei degli allegri bierboni ragotti, però però fidatevi del cane, non si fa male, non si fa male, lasciatelo giocare. Se non avete un tappeto di spine anziché un tappeto di erba, va benissimo. Da parte che il lagotto anche con le spine le patisce molto poco, se ha il pelo corto, se ha il pelo lungo è più facile che si impigli dentro. Dicevi? Niente, no, ho colloquiato troppo con te un paio di ore fa, quindi non sono più abituato al video. Sì. Allora, il padre, parliamo sempre della madre, ma il ruolo del padre, il padre presente, nel caso per quanto tempo aiuta al menage? Per quanto riguarda i mare in mano bruzzesi, il padre è fondamentale, nel senso, a volte faccio nascere le cucciolate sui recinti e il padre è veramente fantastico, cioè prende parte totalmente alla cura dei piccoli, non come la mamma, perché ovviamente non dà il latte, però pulisce, collabora, porta il cibo, rigurgile il cibo. Nei ragotti ragotti, onestamente, non gliel'ho mai permesso, li allevo in maniera differente, quindi i ragotti mediamente li faccio lasciare nascere nelle sale parto, nei box, quindi onestamente, in tanti anni, è strano, non gliel'ho mai permesso, non ho mai permesso al padre di fare il papà. Io penso che anche i ragotti possano avere delle buone competenze, però perché sono più... non l'ho mai fatto, onestamente non l'ho mai fatto e quindi non posso onestamente rispondere a questa a questa domanda. Avrei un attimino più paura, perché comunque sia, è sempre presente un tantino di selvatico, ecco, non vorrei, anche se è poco poco, non vorrei che... sì, ammetto di avere un leggero timore a farlo, ammetto di avere un leggero timore. Luca Micolucci, nelle crocchette per cuccioli e non, ma oggi parliamo di cuccioli. Cosa bisogna guardare per scegliere un buon prodotto? Allora, è troppo complessa come domanda. Tu pensa, pensa Luca, Luca Colucci, mi ricordo. Luca. E io non utilizzo più crocchette per cuccioli, che può sembrare, come dire, un'eresia, ma in realtà mi permette o permette ai cagni di crescere, secondo me, in maniera più costante, lenta e adeguata alla crescita muscolare, perché dando crocchette per cuccioli, vi è uno sviluppo scheletrico eccessivo, il cane è vero che cresce più velocemente, sembra quasi più in salute, ma in realtà vi è una crescita scheletrica eccessiva, non assolutamente ben bilanciata con la crescita cartilagina e muscolare. Quindi vi è una sincronia nella crescita che rende i cani, come dire, più sensibili a determinate patologie, magari insieme al cane, però articolari. Per cui io addirittura non uso più in cani di piccola taglia o con lagotto il puppy food. Quindi non sono un grande fautore dell'iper energetico, iper proteico, spesso i lagotti, per cui la mia risposta potrebbe essere, come dire, non quella che ti aspetti o non quella che altri si possa aspettare. Però diciamo che la buona qualità nelle materie prime è uno dei parametri che uno dovrebbe considerare. Più la buona qualità di provenienza rispetto, come dire, alla tabellina analitica dei macronutrienti, che poi sono proteine, carboidrati, grassi, macronutrienti, vabbè, comunque fibra, una buona sostanza. Più che guardare quello, proteine, grassi, zuccheri e niente. Più che guardare quello, la tabella analitica, devi guardare la qualità di provenienza del prodotto, magari darne un po' di più, in alcuni casi, e poi magari integrare anche con del mangiare crudo, con vitamine, e quello secondo me è l'ideale. Se devo prendere un cucciolo che non ha il microchip, a chi mi possa rivolgere per metterglielo? Al veterinario, Andrea. Cioè, nel senso, vai dal veterinario, mette il chip e comunica, credo all'ASL, canina, tutti i dati. E questo è quello, cioè, come dire, lo fanno i veterinari, però non è il modo corretto di agire. Nel senso che, fondamentalmente, dovrebbero addirittura segnalare la truffa, oppure l'ina di impienza, oppure comunque, non è corretto fare così. Cioè, nel senso, se un cucciolo è tuo, tu lo puoi ovviamente cippare. Tu però non puoi proprio prendere un cucciolo senza chip, a norma di legge. Quindi non dovrebbero nemmeno cippartelo. Però ovviamente non può rimanere nel limbo e quindi lo cippano. Però dovrebbero esserci delle interrogazioni da parte dei veterinari che dovrebbero dirti, da dove è preso questo cane? Ovvio che tu puoi rispondere naturalmente. Però se puoi, come dire, ti chiede, da quali cani? È così, spirito santo. E però, ecco. No, in effetti, ho sbagliato io stavolta. Ti ho parlato scopera. Stavo dicendo che, in effetti, i cani che ho portato a cippare al veterinario erano tutti di cucciolate, cioè non erano stati cani ceduti senza chip, ma cucciolate. Quindi erano cuccioli cippati dal veterinario. Sì, appunto. Quindi, no, in teoria è totalmente legale. Diciamo che, perlomeno, senza voler essere appunto regionista, però dalla, come dire, dalla Toscana in giusto, che è comunque una pratica abbastanza diffusa anche fare questo, cioè ormai la prendono come, vabbè. Altrove, regioni tipo Lombardia, Piemonte, Veneto, potrebbero fare dei problemi perché, comunque, è una pratica illegale, non corretta, quindi, e non è nemmeno banale perché mi sa che ci sono 600 euro di sanzione, sia per chi porta il cane, sia per quello che poi dovrebbe essere quello che ha celluto il cane. Quindi, ora, non so se queste multe sono state veramente mai, come dire, espresse e, come si chiama? Cioè, come posso dire? Errogate. Esatto. Eh, no, errogate, no. Errogate, la multa eroghi? Sicuro? Va bene, ok. Eh, però non è solo così. Ok. Errogate, la multa erogata. E, però, però, Dante, ecco. Mario? Sì. Ah, eh, no, non ti sentivo più. Volevo condividerti il sito dell'Accademia della Crusca, ma poi sei smesso di parlare. No, no. Sono tornato. Allora. Ti erogano le sanzioni, però non penso che... Dai, 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 non ti ho interrotto, vai, hai detto allora. Allora, niente, stavo dicendo che siamo arrivati alla alla fine della diretta. La multa sanzione viene combinata, anche, giusto, Emanuele Baratto. Tanti si sente se mi parli sopra. Bravo, bravo, uguale. Altro. Ma, adesso, comunque, sì, le sanzioni si erogano, comunque. Le, le multa... Salutiamo, chissà, andiamo avanti a fare l'acquario a turno. Eh, grazie a tutti di essere stati qui con... con noi. Eh, grazie Dario di essere stato, come ogni mercoledì, a... su Traffle for Dummies. Eh, grazie a tutti di essere stati con noi. Prima di andar via, vediamo se riesco nelle mie... nei miei potentissimi mezzi di regia. Vi volevo fare un remind su gli stage che terremo, i primi stage che terremo, che sono quelli del... con Luigi Di Bacco, della scuola Maiella. E il diciassette, diciotto aprile, l'otto, nove maggio, i beginner e il pro, e verranno ripetuti poi il cinque, il sei luglio, il cinque, sei giugno e il dieci, l'undici luglio. Saranno proprio accanto al... all'allevamento di Dario. Dario sarà presente, come riporta anche la... la nostra affiche. Sarò anch'io, ci sarà anche Luigi. Le prime date sono già quasi praticamente tutte sold out, quindi io sto raccogliendo le pre-iscrizioni, nel caso poi partirà la lista d'attesa per poi, nel momento in cui si concretizzeranno le iscrizioni e a quel punto chi avrà fatto la prescrizione avrà una relazione sul tempo, quindi volevo farvi un piccolo ricordo. E va bene, buonanotte Dario e buonanotte a tutti. Buonanotte, spero di essere stato utile anche questa volta, quindi ci vediamo alla prossima e niente. Un grande saluto, ciao! Top! Ciao!